Aver saputo coniugare l'amore per lo sport agli impegni che con i sacrifici portano alla realizzazione dei sogni e per gli eccezionali risultati che danno lustro all'atletica italiana. Queste sono state le motivazioni espresse dai giurati del Centro Culturale Renato Cutuso di Favara nell'assegnare il premio Mimosadoro alla Maratoneta Palermitana Anna Incerti. La cerimonia del prestigioso premio giunto alla 22esima edizione si è svolta al Palacongresso di Villaggio Mosè. L'atleta siciliana nazionale italiana ha nel suo Palmares una medaglia d'argento ai campionati europei di atletica di Barcellona e dopo l'esperienza olimpica di Pechino 2008 a breve inizierà il cammino che la porterà a Londra. A consegnare l'ambito premio il presidente del Centro Cutuso Linaurso Gucciardino. Come mai la scelta è ricaduta su Anna Incerti? Ricaduta non senza un motivo perché noi diciamo che mandiamo un messaggio ogni anno soprattutto alle giovani donne e ai giovani e il nostro messaggio è quello di dire ragazze stiamo attraversando una crisi, crisi non soltanto finanziaria ma anche crisi di valori e quindi siete portate ad abbattere, ad essere sfruggiate. Ecco, Anna Incerti è una marettona età che corre, che si impegna con spirito di sacrificio. Ecco, imitatela, ce la farete anche voi. Sicuramente questa è un'emozione più grande perché io a Correre Ormai sono abituata, lo faccio quasi con disinvoltura e invece questo premio non si riceve tutti i giorni e infatti sono contentissima ed emozionata di riceverlo perché a quanto pare l'hanno ricevuto donne che si sono particolarmente distinte, quindi per me è un grande onore. Le donne si stanno distinguendo e stanno facendo veramente tanto per il paese. Poi il 20 maggio farò tappa a Manchester per una 10 chilometri e poi andrò dritto all'Ivigno dove comincerò a preparare la maratona olimpica. Da due anni la manifestazione si è anche arricchita della sezione Mimosa d'Oro Giovani dopo la cantante agrigentina Loredana Arrore. Quest'anno il riconoscimento è stato assegnato alla ricercatrice dell'AIRC, Maria Lugia Marino, dottoressa quest'ultima impegnata nel Dipartimento del Farmaco dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma. Spesso, nonostante le discriminazioni tra i sessi, le donne occupano posti di rilievo specie nel mondo della ricerca. Sì, è vero, ma l'impegno nella ricerca credo che sia per entrambi i sessi uguale. Sia le donne che gli uomini si impegnano allo stesso modo. Forse noi donne riusciamo ad avere anche un aspetto più umano e dedicarci non con maggiore passione ma con più cuore alle cose. Forse questo è il nostro punto di forza. A che cosa sta lavorando? Attualmente stiamo lavorando ai meccanismi di resistenza delle cellule tumorali, di resistenza ai farmaci delle cellule tumorali, in particolare dei melanomi. A che punto è la ricerca? La ricerca va sempre avanti, non si può mai dare un punto d'arrivo perché altrimenti sarebbe finita. È un buon punto ma c'è sempre tanto da fare, c'è sempre tanto lavoro e tante cose ancora da scoprire, da capire come funzionano anche a livello della biologia tumorale. Quindi c'è ancora tanto da ricercare. Come tradizione la manifestazione, particolarmente sentita dal pubblico agrigentino, ha offerto momenti di spettacolo. Conduttori della serata Giuseppe Moscato e Gabriella Omodei. Ad allietare il folto pubblico presente i giovani talenti dell'Accademia di Canto Palladium di Favara di Liaminio. Sul palco del Palacongressi è anche uno speciale coro formato dagli alunni delle scuole di Favara e Agrigento. Oltre all'intrattenimento musicale, il premio Mimosadoro è anche occasione di solidarietà con la raccolta benefica in favore dell'Associazione Umanitaria Le Opere del Padre dell'attrice Claudia Coll, a cui è stato consegnato e ricavato per la costruzione di un ospedale in Africa. Perché si è stabilita un'amicizia e una stima con la signora Guicciardino. E quindi lei ha sentito così di fidarsi anche della nostra associazione che opera con i poveri per raccogliere i fondi. Lei è contenta di darli a noi perché sa che arrivano dove devono arrivare. C'è anche una collaborazione con l'ingegnere di Agrigento, della provincia di Agrigento, Maurizio Costa, che sta proprio realizzando il progetto in Burundi di questo ospedale per i poveri. Nel corso della serata altri riconoscimenti speciali sono stati consegnati a donne che si sono particolarmente distinte nei loro settori, tra loro l'attrice Sandra Milo, la suora missionaria dell'Ordine Diocesano di Palermo, suor Maria Cuticchio, e la scrittrice e giornalista Sara Favarò. Come da consuetudine è stata la musica italiana a chiudere la Kermess. Per la 22esima edizione del premio, il Centro Culturale Guttuso ha offerto il concerto della cantante veneta Ivana Spagna, che ha incantato il pubblico con alcuni dei celebri brani del suo vasto repertorio. Allora, alle donne di continuare comunque la loro battaglia rimanendo sempre donne, cioè femminili anche, rispettando proprio la propria femminilità che è importante anche per l'uomo questo, proprio per portare avanti la coppia donna e uomo, che mi sembra sia la base comunque di questa nostra vita, di questo cammino, e comunque di non mollare. E vorrei fare un ringraziamento anche a queste donne che hanno portato avanti questa battaglia, soprattutto, che l'hanno fatto per tante altre che magari non si sono impegnate così in maniera forte. E ho scoperto oggi che c'è una signora che si chiama Lina Urso Gucciardino, che ha fatto miracoli portando questa manifestazione alla 22esima edizione, perché dietro queste manifestazioni ci sono sempre tante problematiche. Insomma, lei si è data da fare, per cui complimenti alla signora Lina, veramente perché ha fatto una cosa grande, perché portando avanti manifestazioni del genere, si continua a testimoniare questo, cioè la lotta sempre delle donne, che non è mai facile, non è mai stata facile, non è ancora finita sicuramente, ma tanta strada è stata fatta.